E bella a tutti ragazzi sono Gilbera che sono qui oggi tornato in un nuovo video su Fortnite per questo vi chiedo un massimo supporto Cerchiamo di arrivare almeno raga 50 likes entro oggi o domani comunque vorrei solo dirvi una cosa Vorrei ripassare nei link in descrizione che trovate il canale di Warry oppure anche gli altri non so chiederò se vogliono che mi metta anche il link dei loro canali se li hanno Comunque raga fatemi sapere se volete altri video con questi quattro piccoli animali perché mi trovo bene a giocare con loro e nulla raga vi lascio al video guardate che partita assurda abbiamo fatto Bella E buttiamoci al pinnacoli No come on again please dude Allora please entro Senti adesso Ti senti senti Eeeh La raga raga questa qua vi dico ve lo prometto vi carri e io ve lo dico ve lo dico raga Ah hai detto per caso questa qui la vinciamo? Io allora io ho sentito di sì Mi pare di averlo detto Ho avuto 3 kg Ragazzi se vinciamo pago da bere a tutti Va bene casetta rossa raga due in una e due nell'altra e la vinciamo Ma allora non voglio dire eh E' guarda sbagliate questa qua no ma c'è un tipo qua vaffanculo Ok C'è un'arma qui Mi ricordo che io stavo nei fates Nooo l'arma con il virino Avete un'arma Io ho preso un cittino molto swag Perché c'è e a mia casa c'era un uomo Oh I stole your gun dude Ok arrivo Ce l'è in più Ok grazie Ci sono 16 metri troppati Oh chi gliela porta chi gliela porta Chi gliela porta Eh ma togliti Ale Io non ci farmi Eh sai naviglia E' una skin che devi ridurli e comandiamo dai Io tiro le granate a casa raga bella A me serviscono Così ci facciamo notare Oh qua c'è un M4 se lo volete E lo prendo io? Dov'è? Oh me lo prendo Si è un maiale Oh qua c'è un M4 Vieni Gib Vieni Gib Vieni Dove sono? Oh Gib Gib qua ma che fai? Mortage Dove? Tieni Ho dato 2 minuti C'è bè C'è bè No matto io Matto io No No Vi troppi i miei studi per favore Venti ragazzi Che sciacalli ho Indietro Indietro Che sciacalli ho Che sciacalli ho Che sciacalli ho Che sciacalli ho 5 ore per quella cosa Oh raga raga ci senti nell'altra Ci senti nell'altra Arrivole Io raga l'ho ferito l'ho ferito l'ho ferito l'ho ferito Io ho 9 colpi di AK E' dietro la casa Lancia le granate occhio Oh uno in scala Uno in scala Dov'è? Ehi L'uomo pompa C'è uno dietro di te tipo C'è un pompa Avete lasciato andare Ragazzi Ne ho ancora uno Mamma mia che cavallone questa pistolina Allora hai detto bene ci carri tu oggi Madonna Adesso voglio Chi ha preso lo snap? Chi ha preso lo snap? Oh no 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 Tanto non c'è Ah no frate fare Ti lascio anche la revolver Allora mi dai i colpi per favore La revolver si Si Ne avete di Di pompa Allora raga a me ne bastano 29 di colpi di AR Si però troppo a me ne ha Eh allora troppo a me ne ha Eh allora troppo a migli altri Vieni chi? Grazie per gli scudini Grazie Grazie Comunque c'è 100 dietro di noi Eh beh appena arriviamo in save Vi spacchiamo Mamma mia quanto sei pro Mamma mia Lo so Ma comunque a me piace C'era lì Secondo me le factory Non sono luttate Però lo scopriamo adesso Ma perchè Ma te sei una zemel Eh Warry Non riesce a intrappolarmi C'è una sfida questa? Si Di coglione il modem E' tipo E' per esempio un palazzo di reali Ecco dall'altra parte Ragazzi gente di tre di me Figli di puttana Eh lo so Dopo Where 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 Vabbè andiamo No sono l'altra costruzione Vittato Ok dai C'ho il colpo di cecchino da usare Ma cosa c'è passato in mezzo il colpo di Non c'è che ci sono i tumori con quelli Vedate il colpo di cecco spazzo Non capisco dove sono C'è uno tipo one shot No ma c'è uno qua Mamma mia Warry quanto ci carri No raga sotto 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 one shot sotto one shot Vai 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 Dov'è? Dov'è? Io non c'ho manco un pompa Arrivo capo Bravo Aspetta c'è ancora uno Dal container Dal container Si riesce a rimanere Ok E passo con 30 di vita Ok bella Se muori Ale Non arriviamo fin se Ne è rimasto uno? Eh Era ancora raga Trampini che lo avete? No Ale datti qualcosa infatti Ale Dacci una bella Ma ho capito in testa un nemico Ma che cazzo Dov'è? 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 Non lo so Ah è sopra le factories mi sa Eh Uno mi rianimi Perfavore Warry coprimi che rianimo lui No 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 E' a Loot Lake che ti starò sparando C'è dalla casa Ah beh infatti Ti starò sparando lì Comunque c'è un nemico qua per berlo Vatelo scambi Buon ragazzo Via raga insieme C'ave il trampolino? No Ma chi sta costruendo? Io Mi sparano Mi sparano Se mi prendo No Gillo Gillo No che fai? Gitte Ma raga facciamo anche il giro Raga facciamo anche il giro Raga facciamo anche il giro Ah no niente niente Uno è eliminato Sono qua sopra le persone comunque Volemmo non Se ne ha pinnacoli raga Eh sì Senza Ehi Ancora siamo materiali In colpa di Gekko Niente 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 di niente Di cosa hai bisogno? Bomba ergo Dammi i colpi e basso Su troppami Esatto Tutto quello che hai Grazie Oh Ah io c'è qua lì c'è Ecco Ale Ok Vorrei mettere in loop La scena di adesso Eh You scared me dude Oh qui 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 Raga davanti a me Dove? Dove? No è sopra Dentro la casa? Oh ma mi ha colpito a me Ma sparando a voi Ma che faccio io Ma no ha colpito pure me eh Ficca ma che tumore No ma è feritissimo Gli hai dato due colpi Sto tumore Non c'ho vita io figlio Ah non ho messo una trappola Non ho messo una trappola No ho messo io Ho messo io Raga io c'ho 45 di vita Oddio Oddio Ma io c'ho 12 di vita Oddio Eh ciao Ho un colpo di Gekko No gli faccio un otto Gli faccio un otto Ragazzi c'è il cano nei gelati Che mi protegge tranquillo Tranquillo Vai vai entro Mentre No raga Questa partita è proprio il limite Della possibilità E quindi la vinciamo Gilber troppo a me colpi di Gekko Veloce 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 Se la vinciamo in C2 sul monitor Sono troppati dietro Raga io sto cercando di scappare Ma raga ma sparano tutti a me Che cazzo Eh vabbè non c'è neanche materiali Ma guarda tutti a me Oh Uno lo buttate a terra raga Io sono one Eee Tu lo sei Tranquilla Ragazzi Perché io sto scappando con 20 di vita Ma pure io Io ho 12 E non c'ho colpi di disarma Eh non c'ho colpi di disarma Hai già vinto Gilber gilber fatti sparare te Sono sopra di noi Oh ma raga sono cadendo Vai vai fallo cadere Eh vabbè Della R ragazzi Della R ve lo lasciai qua dietro i colpi Io c'ho la cappa Io ho delle bende Manco la R Io ho le bende Io ho 12 di vita E tra qua ci ho messo Adesso lo li troppo Io posso fare un muro per i materiali che ho Anch'io Io 2 Io nemmeno quello Io ho 2, 4 e 2 Raga questa qua è la partita più assurda che abbiamo mai fatto Raga c'è gente a 105 Raga lì assalti Che città è quella lì C'è C'era gente L'ho visti che sono saliti lì Andiamo Ma ci sono bende Raga siamo 4 contro 5 Si può fare eh Buoh Sì con Tutte le nostre insieme formano una vita E infatti Sì ma dubito Gilber che siamo contro 5 persone insieme Ma perchè Gilber No no lo so Dove le diamo in corso tutte le bende No raga andiamo qua a sud che c'è un drop Io c'ho 5 colpi di pompa raga ma si può 49 bende Io c'è Ti rendete conto che se no c'ho la r comune Allora ma mettetevi in fila indiana Dai guardate se quello che ho avuto da un po' Mi lasci la la boogie bong Raga ma dove siete voi aiut No c'è me lo sei andato Ma c'è un drop qua raga Aiuti credo fossi venuti qua No c'è troppo qua sotto vieni su scendi Aspetta in un altro qua Ma io so si può mezzo sopra mento No qualcuno ha aperto Ok Gilber bravo Hai trovato scudi Gilber copri un attimo che sto qua sotto Sì ho una scuola Raga da dove sparano? Eh boh Salti Raga prendete questo scudo qua A 15 15 n Uuuu le fa tortelo N 15 o da n e Sì prendetelo prendetelo Io non c'ho neanche vinto No lascia la boogie bomb Lascia la boogie bomb Lascia la boogie bomb Qua sotto c'è uno scudo Scudo e una boogie bomb qua sotto A 30 sono là che faltano Aspettate raga Curiamaci un attimo tutti Prendiamo i scudi quelle robe lì Che è giusto per me Comunque n 15 c'è tutta la roba Sì Warray Vai vendita No Cioè Avete Cos'è che c'è? Raga avete un R decente No Chi c'è ragazzi C'è ragazzi C'è ragazzi C'è ragazzi C'è ragazzi Chi c'è ragazzi Chi c'è ragazzi Oh raga là ci sono i nemici Vediamo se lo prendo Ma raga dobbiamo star sopra Come ho cominciato C'è ragione A 15 c'è noto che nemmeno Si raga terrena su terrena su È la cosa più intelligente da fare Ma quassi non si sta nemmeno Nemmeno io What the fuck are you to? Giangi Nooo non t'ho preso Cosa? Sono lo schivatore di bull bomb E raga l'ho aiutato L'ho aiutato Io ho ufficialmente finito tutti i materiali Raga io ne ho aiutato uno la nel fortino A 15 prendi Ma chi risalco Uh Uh Raga venite qua Ragazzi io c'ho la minigand Quindi Droppatemi tutti i colpi Ma hai colpi di cerco? No tolto hai colpi di minigand C'ho ne ho 9 Vai droppa c'è Ma quassi c'è troppati che ne ho 9? Ragazzi sono là che fai te lo troppati dietro Si ne ho 9 Te ne ho dati 4 Vai scendiamo scendiamo Raga qui a 60 c'è il drop Prendiamo prima il drop Qui sono one shot i colpi di minigand Vai Ale Apriamo il drop Nooo gli ho fatto un pelo assurdo Dai Che almeno uno abbia lo scar Ragazzi mi troppate tutti i colpi Mi troppate tutti i colpi di Mi va bene questo Mi va bene questo Questo c'è con niente C'è mini scudi raga se li volete qua sotto Ragazzi ho perso ancora vita io Ragazzi mi troppate i colpi di minigand Per favore Vieni qua vieni qua Io non qua davanti Ma ragazzi siamo 4 contro 3 E ok Ma andiamo sotto No ma io non sono No ma io non sono Aspetta worry 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 Ragazzi smuori Worry Worry colpi di cerco Io non ho materiale raga Io non ho materiale raga Dove ti sono? Dove ti sparavano? Dove ti sparavano? Ragazzi dentro la casettina Dentro la casettina Uno è dentro Uno è dentro L'altro è tipo dietro Ultimo raga? No penultimo? Lo intrappoliamo raga? No 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 Vinciamo la partita Un po' le dita Ok l'ultimo raga Intrappoliamolo raga Ce l'hai le trappole? Lascialo 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 Ce l'hai le trappole Vabbè abbiamo vinto Che fai se butta Madonna raga Madonna Quante kill totali? Quante kill totali raga? Io ho 3 tipo 3 e 4 Non mi ricordo Io ho 5 Io ho 5